Ciao a tutti da Saludatore, ci troviamo qui in occasione del Tennis and Flam per la Prevenzione, ci troviamo nello stand del Ministero della Salute, l'ideatrice Lorena Rutigliano. Appunto questo progetto è stato ideato e creato da me con la collaborazione del Ministero della Salute, quale ringrazio tantissimo. Il nostro testimonial è il mitico Luigi Busa che nel 2020 ha fatto medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo. Noi amiamo fare prevenzione e tutto ciò che riguarda la solidarietà. Io penso una cosa, che è molto meglio avere una mano che ti rialza nei momenti di difficoltà e non cento mani che ti rialzano quando stai bene. Quindi donazione del sangue sempre e prevenzione, perché dona vita, dona sangue. Grazie Lorena. Campioni per la Salute è un progetto, dimenticavo di dire, che riguarda tutto ciò che è il sociale e il benessere psicofisico dell'individuo. Quindi veniteci a trovare il nostro stand qui alla Tennis and Friends. Grazie. Io ti ringrazio a te e vi ricordiamo i canali... Campioni per la Salute. Campioni per la Salute. Ecco qua, perciò trovare tutto quanto. Io nell'occasione di essere il Saludatore ti regalo la Manina del Saludatore dell'Italia. Numero uno lui, numero uno. Grazie, troppo buono. Perché come saluta lui non saluta nessuno. Ciao Manina. Ciao, Campioni per la Salute. Ciao.